Il Festival Cioccolato Vero Ci sono veramente dei banchi strepitosi con una serie di maestri cioccolatieri che arrivano da tante parti diverse d'Italia e che ci riescono ad offrire veramente dei prodotti che sono unici per il gusto e per la vista. Quindi veramente è con grandissimo piacere che abbiamo accolto questa manifestazione nella nostra piazza. La giornata tra l'altro ci assiste perché è una giornata splendida. Ti invito e spero che tutta la cittadinanza possa beneficiare di questo momento di dolcezza che letteralmente allieta al nostro fine settimana. Con un grandissimo ringraziamento ancora a CNA, a tutte le associazioni che hanno collaborato con CNA e anche alle associazioni di volontariato che oggi arricchiscono la piazza con le loro attività e le loro iniziative. Grazie a tutti!